Sì, buongiorno Marina, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui presso il Comune di Tocco da Casara con il Sindaco Zaccagnini per fare il punto della situazione sul fronte contagio e nuovi positivi. Allora, signor Sindaco, qual è la situazione a questa mattina? La situazione a questa mattina è di 56 contagi certi molecolari appena confermatemi dalla ASL, chiaramente aspettiamo l'esito dei tamponi numerosi che abbiamo fatto ieri con l'inizio del controllo qui direttamente in paese organizzato da noi, dalla regione e dalla ASL assieme e quindi sicuramente avremo qualche aumento, non sappiamo dire quanti, però insomma ci sono familiari di persone positive, conviventi che ci aspettiamo possano essere positive. Al momento quindi siamo a 56 come numero di positivi, poi oggi ho letto dei numeri nei media su centinaia di persone in quarantena e in realtà è un dato non assolutamente ufficiale, probabilmente si è fatto un calcolo rispetto alle persone che si sono auto-isolate vista la condizione del paese, però le quarantene ufficiali nel tracciamento sono molte, molte di meno. Signor Sindaco, si è parlato di una possibile variante del Covid-19 qui nel suo comune, ha qualche notizia in merito? Allora, si è parlato della variante in Abruzzo innanzitutto e con il dottor Polidore e con la struttura della ASL abbiamo stabilito che per i tamponi più sospetti tra quelli che si stanno svolgendo in queste ore a Tocco da Casauria si farà il doppio controllo per verificare se anche qui è comparsa la variante inglese o qualche altro tipo di variante. Per concludere, signor Sindaco, si farà un ulteriore screening della sua popolazione? Allora, si è deciso insieme alla regione e alla ASL di procedere per gradi facendo numerosi tamponi, quindi allargando la cerchia dei controlli non solo al primo contatto ma anche al contatto dubbio di secondo livello per fare in modo di riuscire a tracciare l'evoluzione di questa epidemia in corso in paese. Fare lo screening a tappeto su tutta la popolazione mantenendo la popolazione nella libertà di movimento sarebbe controproducente perché non avremo più chiarezza di quello che sta accadendo al territorio. Questa è la decisione definita chiaramente dalla struttura della ASL, non da noi e noi la stiamo seguendo. Terremo monitorata la situazione anche nei prossimi giorni, signor Sindaco, la ringraziamo per questo contributo che ci ha dato. Non so se c'è qualche altro dato, qualche altro elemento che vuole mettere in evidenza? Più che qualche altro elemento deve essere chiaro a tutti, soprattutto a noi concittadini, che dobbiamo mantenere una massima attenzione in questo periodo. Tutto ciò che si può evitare come contatti all'esterno del proprio nucleo familiare è bene farlo, è bene osservare in maniera precisa e puntuale tutte le regole del distanziamento e del contenimento del contagio. È l'unico modo che abbiamo per poterlo arginare. È evidente che stiamo monitorando costantemente, giorno per giorno, ora per ora la situazione, perché se dovesse peggiorare bisognerebbe eventualmente prendere provvedimenti ulteriori. Grazie, grazie al Sindaco di Tocco da Casauri a Zaccagnini. Ringrazio Diego Martelli per il supporto tecnico. La linea può tornare allo studio. Grazie. Grazie a tutti.